Ciao, oggi volevo proporvi un video di vestiti principalmente usati vintage di seconda mano e sarà un try on haul. Ci tengo tantissimo a fare questo video e in passato avevo già parlato di questo argomento, magari mettendo in qualche video haul dei capi trovati in armadivari o capi usati vintage e tanti anni fa ormai, sì un paio di anni fa, avevo fatto un video nel quale spiegavo più o meno la mia filosofia per quanto riguarda appunto il comprare vestiti e il mondo del fashion e sono andata a rivedere anche io quel video che magari vi lascio qui da qualche parte perché volevo vedere appunto la mia evoluzione e sono contenta di vedere che con i miei tempi e piano piano sto andando verso la direzione che avrei voluto insomma quindi sono contenta di proporvi questo video oggi anche perché sono stata qualche giorno fa in un mercatino della mia città che avevo organizzato in un posto che si chiama le manifatture e in questo mercatino c'erano negozi vintage di roba usata, di seconda mano, handmade a chilometro zero, c'era anche qualcosa di cibo, c'erano dischi, c'erano pietre, c'erano incensi è stato un pomeriggio davvero piacevole da passare ed è un appuntamento che credo durerà nel tempo quindi se siete della zona informatevi assolutamente, magari ci becchiamo anche lì sarebbe un piacere incontrarvi tra gli odori dei mercatini dell'usato e mentre spulciamo e cerchiamo vestiti e cose insomma io ho fatto un po' di acquisti perché con il cambio di stagione avevo bisogno di qualcosa di nuovo anche se onestamente io ho già tanti vestiti e non sono una persona che compra tante cose e niente, partiamo con il video haul perché se no non finiamo più la prima cosa che vi faccio vedere è questa carbonella che non servirà a niente è principalmente il palo santo ho preso qualche pezzettino di palo santo in uno stand che vendeva vari incensi e anche qualche prodotto tipo burro di karité, olio di argan insomma io ho preso il palo santo perché mi piace molto ed era anche a un prezzo abbastanza conveniente e io lo utilizzo principalmente per la meditazione, per ridassarmi ed è diciamo un legnetto che si brucia e sprigiona un profumo è davvero banalizzarlo detto così però fondamentalmente si utilizza così e poi ho comprato la carbonella che mi serviva per gli incensi che ho comprato in Marocco e che ancora non ho utilizzato perché appunto non avevo la carbonella e adesso finalmente posso utilizzare tutti gli incensi che ho portato con me da quel viaggio che ormai è passato un po' di tempo per tutte queste cose avrò speso 3 euro più o meno la prima cosa che ho comprato è questo maglioncino in un materiale davvero davvero fatto bene penso ci sia anche una percentuale di lana e come sapete io non utilizzo pelle e lana nuovi ma utilizzo pelle e lana già usati vintage o di seconda mano quindi questo maglioncino sicuramente mi terrà molto molto caldo è una XXL penso anche maschile ma mi piace tantissimo come sapete io amo utilizzare le cose spero non sia successo niente di grave però abito vicino all'ospedale quindi per me l'ambulanza è praticamente la colonna sonora della mia vita comunque questo maglioncino mi terrà molto caldo è una taglia molto grande e io amo vestirmi oversize anzi mi vesto principalmente oversize e l'ho pagato una decina di euro in realtà lo potevo prendere anche a meno però è andata così 10 euro per questo maglioncino che è un prezzo ottimo direi anche perché è di una qualità fantastica mi hanno lasciato un po' in dubbio sia per la taglia perché non avrei potuto provarli ma anche perché il colore insomma il taglio la stagione però per 10 euro e abbinati a quel maglioncino non potevo assolutamente lasciarmi di scappare sono questi pantaloni a vita alta vintage e sono nuovi avevano ancora il cartellino di questa marca che si chiama We quindi erano nuovi la taglia mi va perfetta nonostante sia una 44 io in genere porto una 40 però non ho la più palida idea del perché questa 44 mi vada bene sono molto elasticizzati quindi è per questo che penso possono andare bene per varie taglie infatti per quanto riguarda i vestiti vintage insomma le taglie sono più che altro un numero cioè sono sempre un numero le taglie basta semplicemente indossarli e sentirsi a proprio agio insomma quindi va bene 44 mi entrano 10 euro un taglio abbastanza aderente molto morbidi ed elasticizzati sono contentissima perché credo che li utilizzerò ancora per un po' per andare in università perché sono super comido comido perché sono super comodi e la vita è alta però non è una vita che mi dà fastidio segna bene il punto vita affarone nell'armadio di mia madre è questo vestitino che non l'ho pagato perché l'ho rubato da lei e insomma è un vestitino che arriva più o meno al polpaccio nero con una manica che non è corta diciamo a mezze maniche sì il tessuto è molto molto buono e aderisce bene al corpo quindi può essere anche un po' sexy anche se io lo utilizzo con un maglione sopra e quindi è tutto forca e sexy arriva più o meno a metà polpaccio per la mia altezza da un po' gnoma e poi insomma lo potete mettere sia con una scarpa più elegante una décolleté ma anche con le scarpe da ginnastica io l'ho abbinato ad esempio con una giacca oversize e un paio di vans che anche quelle le avevo prese second hand un annetto fa penso sì, no, un paio di anni fa insomma questo vestito mi piace tantissimo poi per il prezzo gratis direi che è perfetto per la stessa filosofia del scusatemi mamma e papà ho rubato una camicia a papà perché se rubo una cosa alla mamma non è che qua facciamo favoritismi si ruba anche qualcosa al papà ed è questa camicia classica maschile che a quanto pare era di OBS ed è di un azzurro classico cioè a me questa è della classica camicia azzurra con le righine bianche taglio pulito a me va molto molto oversize però mi piace tantissimo sia da utilizzare che spunta sotto i maglioncini ma anche da lasciare aperta magari con un top basic sotto e niente, questo azzurro mi piace tantissimo quindi rubate le camicie ai vostri papà perché sono belle le camicie il pezzo forte di questo haul secondo me è questo cappotto che io cercavo da una vita nel mio profilo di e-pop che però non vi ho mai lasciato perché fondamentalmente non lo utilizzo per vendere ancora quindi lo utilizzo semplicemente per comprare e sarebbe inutile darvi il mio profilo di e-pop se non c'è niente insomma dentro magari in futuro se inizierò a vendere qualcosa ve lo farò sapere comunque questo cappotto questa tipologia di cappotto l'ho selezionata in 800.000 negozi di e-pop e stavo valutando quale acquistare anche in base al prezzo perché i prezzi variavano tantissimo dai 300 ai 20 euro quindi ero un po' perplessa è un cappotto che mi serviva mi serviva un cappotto molto caldo perché io in inverno cammino molto in bicicletta cammino anche a piedi e cammino anche in vespa sì, praticamente vi sto dicendo che ancora non ho preso la patente di conseguenza quello che mi serve è un cappotto che mi tenga molto caldo che si possa chiudere, che mi avvolga e soprattutto che possa entrare nei miei maglioni oversize quindi un cappotto oversize e lo volevo color cammello sicuramente l'avrei preferito in materiali sintetici se è nuovo o in questo caso l'ho preso in lana cashmere perché appunto era usato ed è stato un super affare ragazzi è leggermente rovinato soltanto nella federa interna nella fodera interna sì, è che stiamo a letto però la signora del negozio è stata troppo dolce perché mi ha detto no tesoro non ti preoccupare vai dal mio sarto mi ha lasciato il suo numero e la via del suo sarto per dirmi di andarlo a riparare a sue spese io magari proverò a farlo riparare dalla mamma prima però apprezzo tantissimo il gesto che ha fatto perché ha detto non mi era accorta fosse rovinato e assolutamente vallo a riparare quindi grazie alla ragazza che me l'ha venduto ha fatto benissimo benissimo ed è oversize ovviamente ma le maniche mi arrivano precise e questo lo vedo tantissimo si sta utilizzando parecchio in questo periodo con un outfit magari total black e le vans insomma è un outfit che sto vedendo parecchio in giro e a me piace particolarmente penso mi terrà caldo e mi scalderà il cuore in questo inverno come dicevo io cerco di comprare ormai sempre di più negozi da negozi vintage o di seconda mano però se trovo un capo che mi piace particolarmente in un negozio classico lo compro e quindi ho fatto un acquisto che mi ha lasciato un po' tipo lo prendo non lo prendo lo prendo non lo prendo alla fine ho deciso di comprarlo perché onestamente io non penso che lo sarò tantissimo infatti mi sono sentita un sacco in colpa perché non è un capo che penso metterò tutti i giorni però insomma ci tenevo tantissimo ad averlo e ho comprato questo stivale ovviamente è in sintetico comunque non mi piace usare o comprare la pelle ed è con questo tacco molto particolare sono neri scamosciati e sono i classici che si stanno utilizzando adesso che arrivano sopra il ginocchio sono molto molto sexy ma io come sempre li utilizzo con i miei sono diventata fluorescente io come sempre li utilizzo con i miei super mega extra maglioni grandi quindi insomma non so quanto io posso essere sexy con questi con questi stivali però mi piacciono perché mi non mi attozzano cioè non mi fanno la gamba corta e mi stanno bene anche sul ginocchio aderiscono bene alla gamba mi piacciono non mi piacciono tanto questi li ho presi da globo sono l'unica cosa che sicuramente potrete trovare il prezzo è molto economico la qualità è molto scarsa onestamente e niente e niente ragazzi ragazze chiunque sia arrivato a questo punto del video io spero che questo video vi sia piaciuto e che principalmente vi abbia dato qualche spunto perché ovviamente questi non sono i vestiti che potete trovare sicuramente in un negozio in questo momento ma provate a comprare nei negozi di vestiti dell'usato per mille e mila ragioni e anche perché vi aiuta a essere più creativi a immaginare l'outfit e a fare acquisti più mirati niente io spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere qual è secondo voi l'affare che ho fatto più in grande e fatemi sapere se volete altri video di questa tipologia vi ringrazio di cuore se vi siete iscritti al canale e noi si non lo faccio spesso però stiamo crescendo quindi grazie veramente grazie poi mi emoziono quando devo dire queste cose vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao grazie